Ciao a tutti da Salvatore, eccoci qui appena vinto il grande Tizzo Marsili e come diceva la moglie ha mantenuto la promessa al papà che vediamo adesso lì nel video nel documentario dedicato a Marsili questo grande match devo dire solo che è un grande campione e un grande cuomo da parte mia e da parte di tutti noi che lo abbiamo veramente grande cuore, grande testa grazie a tutti per il team e a Francesca e diciamo grande Emiliano Marsili grande Tizzo, campione ciao